Bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come Alessia Marcuzzi potrebbe tornare in tv a breve, ma nel frattempo ha pubblicato una foto mentre è al mare lasciando tutti senza parole per il suo fisico invidiabile. Alessia Marcuzzi pare sia, quasi, pronta a tornare in tv. In autunno potremmo forse rivederla, dopo un paio di anni quasi di assenza. Negli ultimi mesi l'abbiamo vista rarissimamente in qualche programma tv, ma moltissime persone sentono la sua mancanza. Nel frattempo, la conduttrice si sta godendo l'estate ed ha pubblicato uno scatto in costume su Instagram che ha spiazzato davvero tutti. Alessia Marcuzzi si gode l'estate. Ha cambiato colore di capelli in questo periodo di lontananza dalla tv Alessia Marcuzzi e questo per molti è sinonimo di un cambio di rotta imminente. Ed in effetti così è stato, dopo aver condotto programmi di successo, ha deciso di allontanarsi per un po' dal piccolo schermo e di dedicarsi completamente a se stessa. Quest'anno la conduttrice compirà 50 anni e sono ormai circa un paio di anni che non la vediamo più spesso come prima, se non per poche sporadiche ospitate. Eppure la gente non l'ha mai dimenticata, Alessia Marcuzzi continua ad essere amata esattamente come prima, anzi forse anche molto di più. In molti si chiedono ancora cosa sia accaduto di tanto grave per averle fatto venire voglia di scappare dallo stesso mondo in cui ha vissuto, almeno apparentemente anche in modo molto gioioso, per decenni. La verità pare essere riconducibile semplicemente alla sua incapacità di riconoscersi in quello che stava facendo e di non trovare più stimolanti le proposte che le venivano presentate. Oggi però pare essere pronta a tornare in tv, come ha anticipato Dago Spia. Ma pare che non la rivedremo a Mediaset, dove di fatto l'abbiamo vista in tutti questi anni, potrebbe passare in Rai e potrebbe condurre un programma composto da circa 5, forse 6, puntate, prodotto da Endemocine e Italy, che andrebbe in onda a partire da novembre su Rai 2. Non abbiamo notizie certe su questo, almeno per adesso, ma nel frattempo quello che è sicuro è che Alessia Marcuzzi si sta godendo l'estate e le sue foto in costume stanno letteralmente facendo il giro del web. Sfoggiando un bichini da urlo.A 49 anni Alessia Marcuzzi, tra qualche mese ne compirà 50, ha avuto due figli, eppure sembra ancora uguale a quando aveva 30 anni. Ha lo stesso fisico scolpito di una volta, la stessa tonicità, le stesse forme al punto giusto che la rendono a dir poco splembida? E così ogni volta che pubblica una foto sui social una valanga di commenti, anzi, di complimenti potremmo dire, compare. Ed è quello che è accaduto anche con l'ultima foto che ha pubblicato in bichini. Ed infatti piovono commenti su commenti di persone che le ricordano che è sempre stupenda, e, come il vino, migliora sempre andando avanti con il tempo, che ha un fisico da fare invidia davvero anche alle ventenni. Insomma, per Alessia Marcuzzi pare davvero che il tempo non si sia mai fermato. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!